Minecraft, ma la mia voce cambia se... Non credo sia una challenge difficile Il problema è che ogni volta che qualcuno si scrive la mia voce cambia Cos'è successo alla mia voce? Vabbè, prendiamo del legno e croppiamo dei materiali Oh, che figo, no? Caverna, oddio! Di nuovo! Facciamo attenzione! Diamanti, che bello! Oh, la mia voce finalmente... No! Iscriviti al canale